Un po' più in basso nella valle, nella zona di Fenestrelle, c'è una località dove un tempo si potevano sentire, oltre i rintocchi delle campane e delle chiese fenestrellesi, i rulli dei tamburi dei reparti militari e il vociare dei soldati, Prakatinat. Prakatinat è oggi un bellissimo pianoro a 1700 metri di quota, che deve il suo nome a due parole, prato e katinat. Mentre la prima, prato, è intuitiva, qui infatti tutto è ricoperto da un prato davvero suggestivo, poi soprattutto in primavera, quando le sue multicolori fioriture richiamano i colori di un arcobaleno. Risalire alla seconda è un po' più difficile. Katinat era infatti il nome di un ufficiale francese agli ordini di Luigi XIV, che guidò per diversi anni, alla fine del Seicento, i suoi soldati a guerreggiare su queste montagne e non solo. Nel 1693 scelse proprio il prato di cui stiamo narrando i significati per erigere il suo campo principale. Migliaia di soldati qui passarono diverse settimane in attesa dei suoi ordini. I soldati poi scesero in Piemonte a dare battaglia e qui rimase il ricordo di quei fatti sotto forma di toponimo, Prato di Katinat, diventato poi Pracatinat. In realtà, però, questi luoghi dovrebbero forse chiamarsi in modo diverso. Proprio in mezzo al prato c'è oggi una fresca fontana, ma un tempo l'acqua sembra mancasse. Si racconta che un toro, reso furioso dalla troppa sete, incominciò ad arare il terreno con la testa, fin quando si ruppe le corna contro una pietra nascosta nel terreno dalla quale scaturì immediatamente dell'acqua. Le corna si erano frantumate in più parti e diedero vita contemporaneamente ad altrettante piccole sorgenti che formarono un fresco specchio d'acqua dove il toro, infuriato, riuscì finalmente a bere e a placare così la sua rabbia. Abbiamo parlato di donne fra le rocce, di conti e di menestrelli, di ragazzi e di draghi, di soldati e di tori. Ci manca ancora una figura, la vecchia. Salendo dal pian dell'Alpe verso il colle delle finestre, a un certo punto si incontra una strada militare che porta verso la cima Ciantiplagna. Dopo un lungo tratto la via raggiunge un colle chiamato il Colle della Vecchia. Vediamo il perché di questo particolare toponimo. Molto tempo fa i fanciulli dei villaggi alpini portavano sulle praterie gli animali al pascolo. Gli adulti si erano raccomandati di non salire troppo in alto, in quanto lassù viveva un'anziana signora, la vecchia, che portava via le capre, le pecore o gli agnelli che raggiungevano il suo territorio. Ahimè, un giorno un agnellino mancava l'appello. I due bimbi a cui le pecore erano state affidate incominciarono a cercarlo disperatamente. Durante la ricerca non si erano accorti che erano saliti molto, giungendo proprio nei luoghi dove si aggirava la vecchia. Il sole ormai era tramontato e i due erano avvolti dalla nebbia e dal buio. Sentirono un belato. Si avviarono in quella direzione finché ritrovarono l'agnellino. Ma non era solo. La vecchia, con il suo enorme mantello, li aveva preceduti. Intanto, più in basso, i genitori, preoccupati di non vederli tornare, incominciarono a cercare i due giovincelli. Il tempo passava velocemente. Il sole era ormai sorto quando gli adulti arrivarono in alto, sul colle. Qui videro disteso sul terreno il mantello della vecchia che copriva alcuni corpi. Temendo il peggio, si avvicinarono, sollevarono il mantello e sotto trovarono, beatamente addormentati, i due giovani con accanto l'agnellino. Da quel giorno la vecchia sparì e al suo posto rimase il suo dente, un'enorme roccia a guzza. Se in futuro deciderete di passare dal colle della vecchia, vedrete sicuramente il dente della vecchia. Mi raccomando, però, rendetegli omaggio. Non si sa mai. Grazie per la visione.